Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi in questo primo video di Brawl Stars e anche il primo video del canale dove in questo caso ho 3258 coppe e ci faremo delle partite in sopravvivenza in due e abbiamo subito una cassa Brawl che l'apriremo dopo, vabbè, comunque cominciamo subito ok, una Piper mi va benissimo, una Piper e lag, e lag, sti problemi di lag, mamma mia, quanto mi danno fastidio mi danno sempre fastidio questi problemi, ogni volta, ogni volta, che cavolo, veramente no, no, ragazzi, non mi può lagare subito ancora poi, volete vedere che ora mi trovo un timo da queste parti però non c'è niente, scusate però, ho un poco il muco, sono un poco raffreddato no, attenzione, attenzione, e vabbè ragazzi, così, così, è normale, ma è normale, ma è normale no, ragazzi, è normale, è normale, no, è normale, è normale, mi lag, mi lag, è il meno 2, il meno 2, il meno 2, sapete una cosa ragazzi, non me la faccio in due, ma me la faccio un singolo, e vado, 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 con che cosa, con uno, stecca, 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 stecchino però anche in questa mappa ci sono tanti bull e shelly che stanno sempre i camperati ma ora mi devo trovare un bull da queste parti, che madonna, voi non sapete neanche ecco, infatti, vedete, anche se non era bull, comunque uno stecca, uno stecca? ecco, io sono morto, con questo caso, sono morto io, sono morto, non mi dispiace, sono morto io, ma sono morto, volete vedere che ora muoio? l'ho detto io, l'ho detto, no, ragazzi, l'ho ucciso prima, io poi l'ho ucciso, se sti, meno zero, se sti, meno zero, vabbè ragazzi, facciamo subito un altro, comunque alla fine avevo detto che mi trovavo qualcuno davanti, perciò, comunque alla fine abbiamo subito questa cassettina e ho un po' paura di questi cavolo di bull che vengono mamma mia, quando meno ve lo aspettate, bam, vengono quanto mi dà fastidio questa cosa, attenzione, un leon, un leon, che lo potevo uccidere, peccatissimo almeno me lo so allontanato, via, via leon, via aspettate ragazzi, sicuramente ci sarà qualcuno a queste parti, via leon, via leon, che vuoi, che vuoi leon, che vuoi, che vuoi leon, che vuoi leon, che vuoi leon, oh my god, oh my god, no, 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 me ne vado, prendo, aspetta che vedete che ripendo la vita e me ne vado dalla puzza no, 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 i problemi di lag moto, dai, rag, un altro meno, un altro meno zero, un altro meno zero, non si può, non si può ah, perchè mi lagga, perchè, non lo so, basta, basta, basta abbiamo subito al volo questa cassettina, 30 monete, 4 shell, 5 foggio e 3 billetti delle 20 e vabbè ragazzi, non so che dire, cioè, è più impossibile, è impossibile facciamo l'ultimo, non so, con un po', andiamo e poi ci salutiamo ecco, vedete, 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 vedete una cosa, ma, 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 aspetta, mi lagga, non mi devi laggare, slaggati, 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 ecco, vai eh no, ragazzi, mi devi laggare per forza, mi devi laggare per forza, ragazzi, se no, non è contento, non è contento, se no, oh star, se no mi fa laggare, non è contento, non è contento, ma, devo per forza camperare, devo per forza camperare, ma beh, a quarti, dai, almeno, almeno il più 5 il getto le stelle meno male lo desideravo ok ci facciamo una partita in football la partita in football ce la facciamo e poi la fine la mia modalità preferita bene andiamo è impossibile va apposta va apposta ok ragazzi ora faremo l'ultima partita infatti subito sono pronto dai pure io sono pronto ok dai ragazzi ce la possiamo fare la possiamo fare ok il power up della partita andiamo ok secondo power up poi c'è un po' belli camper così per se vengono l'accoppiata carl e shelly devastante devastante veramente molto devastante me ne stiamo andando me ne stiamo un po' camper mi so io allora tutta c'è un leon il corso appena viene da queste parti tipo un leon eccolo lì sta leon con beryl aspetta aspetta via ok c'è pure il leon andiamoce 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 è rinasi il compagno che meno male è un beryl meno male ok ragazzi va benissimo ci siamo strappati via 4 power up e va molto bene ci manca almeno una terza posizione e staremo non staremo più a rischio coppia attenzione bam morto eccolo qui aspetta un attimo tu dove stavi sta qua ok ragazzi non andiamo subito su quel leon ancora poi no 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 ragazzi no il pezzo grosso si tiene per dopo andiamoce andiamoce sta pure un beryl qua vieni con me vieni con me così poi riusciamo ok ragazzi dai dai restiamo qua no no allora ne ho questa parte che ci hanno visto ok oh funziona quel beryl potrebbe che pare infatti tra un leon che sicuramente muore poi ci dobbiamo andare ora aiutate te lo dico quando ci andiamo uno due tre andiamo scontro finale addirittura rispetto può provare no sono morto vabbè comunque seconda posizione ci va benissimo più sette ha molto bene in questa cosa più sette va benissimo ragazzi il più sette ci va sempre bene cosa va benissimo va va più che bene ok bene ragazzi questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al canale dark pork e iscrivetevi anche a questo canale per favore arriviamo a 10 iscritti e avete capito cosa faremo ebbene questo video finisce qua e ciao a tutti ciao ciao